Ti vedo grande e tu mi vedi? Cioè, ok. Mi vedi? Sì, tu anche? Sì, sì, perfetto. Io ti vedo grande e mi vedo a me piccolo, ma tu tanto l'importante è quello che registri tu. Sì, 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 sì. Come stai, Luca? Bene, pensa che stavo facendo il programma la settimana prossima, conversazione sulla musica, è una bomba. Ah sì, tipo? Chi c'è? Samuel dei Subsonica sui Chemical Brothers, Drigo dei Negrita sui Dire Straits, che lui è un super, super fan, e la bomba è Cesare Cremonini sui Queen. Bellissimo. Sono tutti presi bene di sta cosa, quindi... Poi sono divertenti. Sì, fai delle grandi chiacchierate, quindi... Sì, sì. Come modificare, come trasformare il lavoro ai tempi della professoressa. Esatto, esatto. E poi sono quelle cose che fanno piacere anche gli artisti l'idea di parlare di qualcosa, di una loro passione, no? Esattamente. Cesare Cremonini con i Queen... Quella... Io ci ho provato, ho detto... Cioè, l'ho mandato un messaggio, ho detto, Cesare, non è... Ti voglio chiedere niente, capisco... No, no, figata, oggi mi ha fatto vedere che si è andato a riprendere su tutti i vinili dei Queen, tipo edizioni speciali, colorate, sono super fan, proprio. E quindi... E quindi, questi giorni, lavoro, 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 non ho tante... Beh, adesso, oggi, domani, c'è proprio il weekend di Pasqua, no, nel senso che oggi c'era proprio chiusura aziendale, per cui si riprende a martedì. Oggi ho messo a posto le cose nel box, ho fatto le cose di gestione casalinga, diciamo. Ma questi giorni... Però queste settimane passate... Sì, sì, domatti. Eh sì, perché comunque noi abbiamo l'azienda che sono tutti a casa in tutto il mondo, ma funziona. Anzi, di ieri era il messaggio del nostro capo che ha detto i nostri colleghi in Cina sono tornati in ufficio. Quindi ci danno sempre la notizia, come dire, guardate che non è una vacanza. Ma guarda che stiamo facendo un sacco di cose, ma sono contento perché almeno c'è una... Adesso facciamo il 18, cioè succede il 18, ma lo mandiamo in onda tutti il 19, c'è questo enorme concerto che abbiamo fatto a livello mondiale con la direzione artistica di Lady Gaga che si chiama One World Together at Home e che verrà mandato da tutti i canali nostri, in MTV, 10 o'anno, in tutto il mondo. Ci sono Paul McCartney, Elton John, Stevie Wonder, Billie Eilish, è una roba spaventosa, è un live aid tutti da casa. Io ho letto una cosa simile fatta da Elton John, ma se fa... Quella l'hanno fa, l'ha fatta Elton John, sì, l'ha fatta lui, però erano quattro artisti, erano lui, Maria Carey, Billie Eilish e Alicia Keys. Qui sono 35 artisti, c'è una roba spaventosa. Cioè tutti anche quelli che piacciono ai ragazzini, appunto tipo Billie Eilish, tipo, che ne so, Shawn Mendes e poi ci sono quei 4-5 superstar eterni che sono appunto McCartney, Elton John, Stevie Wonder e... Eddie Vedder, c'è anche per il genere. No, 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 c'è una roba spaventosa. Vabbè. E invece comunque però la tua vita è cambiata perché la tua routine quotidiana mi sa che si è molto modificata in queste settimane. Decisamente, decisamente. E poi un'altra, diciamo, ubico. Sì, 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 in realtà sì, si fa tutto da qui. Io non vedo l'ora, cioè ormai, io dopo un mese, ormai più di un mese, perché l'ultima volta che ho messo piede fuori casa e che sono andato, l'ultima volta che ho registrato alla radio è stato un mese fa, mercoledì. Cioè il mercoledì era... cos'era? L'undici. Quindi sì, un mese. Un mese che non metto piedi fuori casa se non intorno all'isolato con Billo. Quanti siete voi in casa adesso? Eh, quattro. Quattro più Billo. Eh sì. E tra l'altro, sì, cioè voglio dire, quattro con due adolescenti, cioè comunque... E Alessandra che non ti vede mai, la sera soprattutto, come ha reagito a questa... Eh? Come ha reagito Alessandra a questa nuova convivenza? Eh, ci dobbiamo abituare, cioè si siamo abituati. Poi, capito, pranzo sempre insieme, cena sempre insieme, cioè cose che non succedono mai. Però ogni tanto viene voglia, ma anche, per esempio, Enrico è quello che lo dice più... più chiaramente, cioè proprio viene voglia di uscire per vedere gli amici, cioè per farsi le chiacchiere liberatorie, il drink, la chiacchierata così. Quella manca veramente. E poi, sto scoprendo che mi manca veramente il viaggio, cioè il viaggio nel senso di poter dire... Cioè io, noi oggi avremmo dovuto essere in Puglia, per dire. Cioè era già... Stava scritto che ieri, no, che oggi partivamo ieri, saremmo partiti in macchina, oggi eravamo al nostro trullo per tre giorni. Cioè quelle robe lì mancano tantissimo, il fatto di andare in un altro posto per un po' di tempo, per un po' di giorni. E vedremo se riusciremo a farlo. Ma oggi leggevo sul giornale che praticamente le... tra i vari esercizi che possono riaprire prima, dopo e dopo ancora, i tuoi sono gli ultimi. Cioè... Certo. Scuole, bar, ristoranti, discoteche sono gli ultimi. Prima ci sono tipo studi legali, queste robe qui. Se non sbaglio, ho appena letto le librerie, sì, però anche le librerie, ma povere librerie. Che cazzo... Con nessuno... Esatto, cioè chi cazzo ci fa in libreria? Nel senso che ha senso per i feltrinelli, i mondadori, quelli enormi, che vendono anche tecnologia e altre cose. Ma i poveri librai indipendenti, che cazzo devono tenere aperto un negozio dove non va nessuno? Certo. Io c'ho la mia amica Cristina, quella che ogni tanto viene a sentire, ascoltiamo un disco, che ha questa libreria piccolissima in via Sannio, e lei si è organizzata per... con i suoi clienti, diciamo, per fare consegne a casa. Cioè, ordina dei libri, mi paghi attraverso bonifico, io te li porto a casa. Però questa cosa qui è difficile per lei farla, per questione di perm... cioè, di spostamenti, eccetera. Mentre invece, ieri postava su Facebook, diceva, invece mi sono costretto ad aprire il negozio, e stare in negozio dove non c'è nessuno. In più c'è anche il fatto che oggi invece il mio negoziante preferito di dischi di Genova diceva, le librerie sì, i negozi di dischi no, con il risultato che gli unici dischi importanti di questo periodo verranno comprati dalla Feltrinelli. Cioè, lui che... in quanto libreria. In quanto libreria, certo. Cioè, la Feltrinelli apre in quanto libreria vendendo tutto quello che ha dentro, per cui, il nuovo disco del Pearl Jam, che per un negoziante indipendente di dischi è ovviamente il best seller del mese, se lo compri da un'altra parte. Quindi... Vabbè. Posso dirti una cosa, che per me questo momento è veramente ripetibile, nel senso che chiaramente nella difficoltà, però il fatto di avere una vita regolare in cui io ogni sera alle otto e mezza sono a tavola con Lucilla a regolare, non mi capiterà mai più. Questo è vero, questo è vero anche per me, nel senso che poi avere proprio i ritmi scanditi. Ma guarda, in realtà per me è molto semplice la giornata, nel senso che mi sveglio presto, colazione, mi metto la voce, o io e Alessandra facciamo la passeggiata con Billo, poi alle nove e mezzo sto davanti al computer, finisco il lavoro tutta la mattina, finisco a luna, luna pranzo, pennichella, cosa che mi mancherà moltissimo dopo, pomeriggio di nuovo lavoro, ho un po' di attività fisica, ginnastica, yoga, eccetera, sera, cena, poi ci vediamo, di solito un film insieme, prendiamo a dormire, cioè la giornata passa in fretta e non ci si annoia sicuramente. Anche per me, anche per me. Ti sei rasato? Sì, mi sono rasato, però adesso stanno già ricrescendo per fortuna, perché ho capito che no, ho capito che è meglio, è meglio come al solito. Sì, peccato, peccato, ti volevo. Lo so, lo so, non mi avrete nel club, però, però, se vediamo. Invece questi nuovi concerti delle ore 18, com'è? Quali concerti? I concerti, questa nuova modalità di fare concerti alle ore 18 per strada. Ma quelli sul balcone? Sì. Qui abbiamo due balconi che si sentono, uno qua in Corno di Cavento e l'altro invece in Via Rosio e sì, ogni tanto si sentono. Ieri passavo... E appunto, vedevo la tua stories su Instagram, dove è? Il pezzo di Ramazzotti e con quei due vecchietti con le sedie per strada. E la nuova, saranno i concerti del futuro? Sì, anche perché se, come cazzo facciamo? Social distancing infatti è quello. Oggi su Repubblica c'era un articolo di Titti Santini che... Ho vieno visto. Sarà dura, sarà dura anche là. Ma senti, rispetto ai vicini invece gesti belli che hai ricevuto oppure potuto dare in questa esperienza nulla di particolare? O qualcosa? Noi non abbiamo grandi rapporti con i vicini cioè con i... Cioè ci conosciamo, ci salutiamo, ma Alessandro aveva chiesto a una coppia di vecchietti che stanno qui se volevano una mano con la spesa eccetera e loro hanno detto ma guardi, è l'unica cosa che facciamo durante la giornata andare a comprare qualcosa. Regola! Almeno quello e grazie mille però insomma non c'è bisogno e qui e qui sì. E poi ho visto che anche un altro condomino ha messo in ascensore un foglietto che ho scritto se avete bisogno io e mia moglie possiamo andare a fare la spesa e portarvela insomma per cui sì qualche gesto c'è. Così. Senti, che dobbiamo fare? In che senso? Ah, noi stiamo già facendo è questa la chiacchierata. Io pensavo fosse una premessa una cosa che dobbiamo fare seria. No, no, no la stiamo facendo. Capirai? Io mi stavo comportando come se fosse una cosa solo tra me e te invece era. Mi dai l'ok è buono. No, ma certo, certo, certo. No, no, ma figurati sarei stato più professionale se avessi pensato che fosse una cosa diciamo che poi altra gente vedeva. Però va benissimo così, tanto non avevamo segreti. Questo vuole essere proprio una dato che noi siamo chiusi vuole essere una telefonata proprio di vicinanza d'affetto e mare che viene da te e ti... No, però scusami scusami non vorrei per ora che ci penso ho detto ho detto quelle cose sui vari artisti eccetera non lo so Tagliamo, tagliamo Sì, dai, sì è meglio se puoi se hai possibilità di tagliare Assolutamente sì no, non c'è tutto il problema tutta la parte dove mi dicevi della prossima settimana sì, sì, sì sì, sì non arriva pensavo che fosse una adesso cominciamo pronti via invece quindi vuol dire che la mia parte di intervistatore era naturale sì, sì assolutamente spero anche la mia parte di intervistato infatti ci sono movimenti tecnologici mio figlio che porta le casse i cavetti quindi vabbè invece questa parte è qui quando iniziamo la facciamo sì, certo certo no, perché io capito abituato a fare le cose professionalmente c'è un momento in cui dici ok adesso adesso giriamo no? allora tutti più seri tutti più compunti l'atmosfera di questa chiacchierata vuole essere proprio informale ma certo ma certo anche un po' appunto una costruzione di memoria collettiva rispetto a questi giorni ma fatta con il calore che è proprio di mare senza la formalità della vera e propria intervista era proprio una chiacchierata tra amici così come con te come con tutte le persone con cui stiamo facendo che sono proprio anche solo nostri frequentatori e non partner o collaboratori oppure persone con cui facciamo questo voglio vedere anche le altre ma sai che mi manca tantissimo nel senso che questa come dicevo prima cioè il fatto di poter dire andiamo a mare a prendersi una birretta a vedere cioè la socialità vissuta anche guardandola intorno una roba che chissà quando la riassaporeremo cioè quando ieri mi diceva Matteo di che c'è questa possibilità che esista questo test di immunità sì no io so poco di questa cosa ma allora dovrebbe prima o poi non si sa quando essere messo in vendita a 5 euro mi diceva un test per cui tu lo fai e dici sono immune a quel punto ciao mascherina ciao tutto quanto cioè sei libero cioè non non attacchi e non pigli per cui ricomincia la vita normale e già questo è un minimo di schermatura nel senso che comunque le persone che non fanno danno ad uscire e non ricevono danno ad uscire possono farlo ma tu come la vedi la nostra vita da qui a dicembre che immaginario ti sei fatto che a scadenze ravvicinate nel senso che da qui a dicembre non si può dire secondo me mi piacerebbe che scavallassimo l'estate in maniera dignitosa dignitosa per noi nel senso poter se non altro prendere la macchina andare in un posto fare il bagno nel mare e stare lì cioè senza particolari voglie di girare il mondo di fare cose strane però andare dove di solito si va al mare noi andiamo in Puglia e andiamo lì abbiamo una casetta lì è quello che avrei fatto normalmente anche che faccio tutti gli anni mi piacerebbe poter fare quella cosa lì cioè andare al mare stare in campagna a vedere un altro dopodiché da settembre in poi bisognerà vedere i numeri i contagi le cose come siamo messi io ho sentito parlare tra le tante cose che si sentono anche di periodi alterni nel senso che dici ok due mesi a casa un mese fuori però con la roba lì è un po' schizofrenica potrebbe essere un nuovo focolaio in autunno pare ottobre novembre sarebbe veramente folle mamma mia tra l'altro una cosa che io volevo fare nel senso che impostare in questi giorni dopo Pasqua è cominciare a capire con il gruppo di lavoro di Milano Music Week che si fa perché quella lì potrebbe essere una cosa che comunque sarà diversa dal solito nel senso che cioè dovrebbe se ci sarà dovrebbe essere il momento in cui si reaggruppa un po' tutta la il mondo di chi lavora nella musica e si capisce come darsi una mano gli uni gli altri come ripartire con quali regole con quali aiuti da parte delle istituzioni quello lì è importante magari farla in versione ridotta farla molto con perché sai il bello della Music Week è che tu fai assembramento nel senso che vai in giro tutto il giorno l'obiettivo è fare assembramento l'obiettivo è l'assembramento per cui tutti gli anni diciamo l'anno scorso c'erano centomila persone in giro e quest'anno non è più quello l'obiettivo ma è fare discussione insomma capire come possiamo sopravvivere tutti alimentandosi gli uni gli altri cioè i media con i promotori i promotori con gli artisti tutta sta gente qua hai visto quella che si chiama Chiamate noi che è una bella iniziativa come praticamente i professionisti del mondo del live molti di quelli che comunque fanno i palchi lavorano eccetera hanno hanno creato un hashtag quindi credo una pagina facebook eccetera che si chiama hashtag chiamate noi che vuol dire se avete bisogno di costruire ospedali da campo fare cose no per questa situazione qui noi siamo dei professionisti sappiamo fare queste cose abbiamo materiali competenza ci muoviamo eccetera e siamo a casa perché non ci sono i concerti per cui siamo disponibili a lavorare per queste cose con una competenza importante e quello lì è già una roba bella io pensavo proprio allora tutta la macchina dello spettacolo dal vivo dei grandi concerti dei riggers come si chiamano quelli che vanno i tecnici del suono i tecnici i luci i tecnici di palco sì sì quelli che lavorano sui live sono tutti a casa migliaia di professionisti che non hanno neppure un orizzonte i concerti e i festival in questo momento vengono rimandati pezzo per pezzo perché Primavera Sound alla fine di agosto in Spagna cioè Today's Festival a Torino fine agosto continuano a confermare artisti ma chissà se la fine di agosto sarà già un momento in cui poter andare a fare a vedere un festival liberamente eccetera giustamente parlavamo di Milano Music Week a novembre che sarà informato chissà come prima di novembre mi sembra assolutamente impossibile che si possa fare e infatti Milano Music Week è sempre a novembre però potrebbe essere il momento della ripartenza in cui si impostano le cose per il 2021 per cui dato che ragionavamo su un punto interrogativo su novembre mettere ipotizzare qualcosa prima mi sembra assolutamente fuori dalla realtà tra l'altro so che quelli che hanno i concerti negli stadi quest'estate e vogliono spostarli di un anno grazie c'è il citofono aspetta vado a aprire il citofono arrivo era mia moglie che ha provato ad andare in macelleria ma prima ci aveva rinunciato perché c'era troppa gente ora non so se ci sia riuscita a sto giro che stavo dicendo ah sì gli stadi che volendo riprenotare per l'anno prossimo non ti danno le date perché negli stadi ci sono nei stadi maggiori ci sono gli europei e poi non si sa quando comincia e finisce il campionato quindi come fanno a San Siro a darti delle date in giugno quando poi magari in giugno devono giocare a calcio poi magari non so perché si prenota l'Iranio non ci stavano già concerti prenotati per l'estate 2021 chissà questo non lo so bisogna chiederlo a chi a chi ma io verosimilmente direi di sì nel senso che comunque uno i concerti rimandati con Nick Cave l'altro giorno ha rimandato il tuo eccetera hanno già delle date per l'anno prossimo hanno già delle date fissate per giugno 2021 per dire maggio giugno 2021 per cui però poi ce ne saranno troppi tutto slitta io ieri che ero con la Nina Zillia la nostra conversazione su Instagram e Nina Zillia a Sanremo ha duettato con Diodato ha fatto 24.000 baci la sera dei duetti e stavamo pensando ad Antonio che è un nostro amico Diodato il quale cacchio fa un disco della Madonna fa un pezzo bellissimo in un film pazzesco di grande successo ma quello di Ospetec vince Sanremo imposta un tour con già un Alcatraz esaurito eccetera e si blocca tutto cioè poi vabbè ok dici lo rifarai ragazzi l'onda però infatti dopo una gavetta del genere poi perché comunque lui si era fatto veramente Marrakesh aveva quattro quattro forum esauriti credo quello che ha scritto l'altro giorno aveva tipo quasi 100.000 in tutta l'Italia biglietti venduti bloccato tutto cioè un biglietto di liberato il 25 aprile ma lui l'ha spostato no però l'ha già spostato le date liberato con i biglietti che valgono sì sì infatti mi andrò a informare però non mi andrò sì sì ma ha fatto un post l'altro giorno liberato che diceva guagliù spostate le date e mi pare proprio che sia in novembre se non vado errato aspetta che ora ti dico liberato perché l'ho notato l'altro giorno liberato cambio date sempre la Milano vedi sempre la Milano 20 è perché i numeri romani 27 e 28 di novembre 27 28 novembre sempre al fuoco ci saremo ci saremo va bene quindi la prima cosa che farai quando finirà questa quarantena di reclusione forzata quale sarà? beh io spero un 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 piccolo viaggetto ma non nel senso di viaggio uno spostamento cioè vorrei andare un weekend in Liguria per dire a vedere il mare a mangiare la focaccia e a toccare il mare a fare il bagno se possibile quella sarebbe la prima cosa che vorrei fare fare una prima tappa al mare qua di San Siro e poi esatto perché alla fine sempre di mare parliamo a Liguria la Liguria la Puglia o quello di San Siro naturalmente grazie mille figurati grazie a te Andrea ci si vede ci si vede via così in via telematica e poi e poi ci vediamo di persona appena possibile yes volentilissimo viva il mare culturale urbano ciao torneremo ciao 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 ciao